buongiorno e buona pasqua allora oggi ovviamente come tradizione nella mia famiglia di secondo farò l'agnello al forno io metto pochissimi ingredienti purché l'agnello sia di prima qualità se la carne è buona non c'è bisogno di mettere tanti condimenti tante fare tante aggiunte allora ho disposto l'agnello vedete sulla carta forno in una pirofila in una teglia allora adesso da mettere sale pepe un filo d'olio poi vado ad aggiungere la salvia il rosmarino e basta pochissimi ingredienti 30 minuti di cottura e buon appetito ho messo giusto un filo d'olio su ogni pezzetto di agnello e adesso va tutto in forno buona pasqua